capitolo ventunesimo madama mantalini si trova in critiche condizioni e la signorina nickelby senza occupazione l'agitazione alla quale era stata in preda caterina la tenne in casa tre giorni prima che la fosse in grado di riprendere il lavoro dalla modista ma alla fine di questo termine si diresse allora solita e a passo lento verso il tempio della moda dove madama mantalini regnava in contrastata dominatrice la versione della signorina nag non aveva nell'intervallo perduto nulla della sua virulenza le signorine se ne rimasero rigorosamente indisparte dalla loro bandita compagna e quando dopo pochi minuti arrivò quell'esemplarissima donna ella non si scommodò a nascondere il dispiacere che le faceva il ritorno di caterina parola d'onore disse la signorina nag quando le sue devote le si affollarono intorno per liberarla del cappello e dello scialle credevo che certe persone avrebbero avuto abbastanza spirito da sparire addirittura sapendo l'incomodo che la loro presenza dà alle persone da bene ma questo è un mondo strano è un mondo strano la signorina nag fatto questo commento sul mondo nel tono che la maggior parte delle persone in collera suole dare ai commenti sul mondo cioè a dire come esse non vi appartenessero in nessun modo concluse col cacciare un sospiro per compatire la malvagità umana le sue ancelle non tardarono a echeggiare il sospiro e la signorina nag sembrava stesse lì lì per favorirle con qualche altra riflessione morale quando una chiamata di madama mantalini trasportata dal portavoce ingiunse che la signorina nickelby andasse di sopra a dare una mano all'ordinamento nella sala disposizione un onore questo che fece alla signorina nag scuotere tanto il capo e mordere così forte il labbro che le sue facoltà di espressione furono per quel momento annientate bene signorina nickelby figlia mia disse madama mantalini vi siete rimessa completamente sto molto meglio grazie rispose caterina ah come vorrei poter dire lo stesso io osservò madama mantalini sedendosi con un'aria di grande spossatezza vi sentite male chiese caterina quanto mi dispiace male proprio no ma tribolata figlia mia soggiunse madama mi dispiace anche di più a sentire una cosa simile disse cortesemente caterina un malanno fisico si sopporta meglio d'uno mentale oh è molto più facile parlare che sopportare sia l'uno che l'altro disse madama stropicciandosi il naso con grande irritazione su mettetevi a lavorare figliola mia e fate un po d'ordine mentre caterina si domandava che pronosticassero quei sintomi di insolito intimo tormento il signor mantalini affacciò la punta dei baffi e poi pian piano la testa attraverso la porta socchiusa per domandare con morbida voce la mia vita e l'anima mia è qui no rispose la moglie come la può dir così se sta qui dolce e fresca come un bocciolo di rose in un diabolico vaso di fiori incalzò mantalini può il suo coccolo entrare e parlare no rispose madama mantalini tu sai che non ti permetto di venire qui va via il coccolo però incoraggiato forse dal tono più conciliante di questa risposta si arrischiò a ribellarsi e insinuandosi nella sala si diresse verso madama mantalini in punta di piedi nel frattempo mandandole un bacio con un soffio sulla palma perché la vuol tormentarsi e contorcersi il visino da sembrare un ammaliante schiaccianoci disse mantalini mettendo il braccio sinistro intorno alla cintura della sua vita e dell'anima sua e attirandola verso di sé con la destra ah io non ti posso sopportare rispose la moglie no eh non può sopportarmi esclamò mantalini vai e vai e non può essere non v'è una donna al mondo che possa dirmi in faccia una cosa simile mai il signor mantalini dicendo così si carezzò il mento e si guardò con compiacenza nello specchio di fronte per le tue pazze stravaganze affermò la moglie sotto voce tutto per la gioia ad aver conquistato un'ammaliante creatura una piccola venere una maliarda seduttrice attraente una piccola venere meravigliosamente diabolica disse mantalini vedi in che condizione mai messa incalzò madama non ne verrà alcun male alla mia diletta non ne verrà alcun male soggiunse il signor mantalini se tutto è finito non importa si avrà altro denaro e se non si avrà abbastanza presto ritornerà il vecchio nickelby e gli taglierò la giugolare se oserà turbare o molestare la piccola zitto interruppe madama non vedi il signor mantalini che nella sua fretta di aggiustare le cose con la moglie non aveva tenuto conto o aveva finto fino allora di non tener conto della signorina nickelby accettò l'avvertimento e mettendosi un dito alle labbra abbassò un po più la voce vi fu allora un gran bisbiglio durante il quale parve che madama mantalini alludesse più d'una volta ai debiti contratti dal signor mantalini prima del loro matrimonio e anche a inaspettati sborsi di denaro in conseguenza degli accennati debiti e inoltre a certe piacevoli debolezze da parte di lui quali il gioco lo scialacquo l'ozio e la passione per la carne di cavallo a ciascuno di questi capi d'accusa il signor mantalini rispose con uno o più baci secondo la loro importanza rispettiva e il risultato finale fu che madama mantalini andò in estasi con lui e con lui si recò di sopra a far colazione caterina si affrettò in ciò che aveva da fare e se ne stava in silenzio schierando i vari oggetti nella migliore maniera possibile quando diede un sobbalzo sentendo una strana voce d'uomo nella stanza e poi vide guardando in giro che nella stanza c'erano anche un cappello bianco un fazzoletto rosso una larga faccia rotonda una grossa testa e parte d'una giacca verde non abbiate timore signorina disse il proprietario di questi oggetti vorrei sapere è questa la ditta della modista vero si rispose caterina molto meravigliata che volete il visitatore non rispose ma prima voltandosi come per fare un cenno a qualcuno invisibile al di fuori si fece innanzi molto risolutamente nella sala seguito da un ometto in abito color caffè stinto dall'uso che portava con lui un'esalazione mista di tabacco stantio e di cipolle fresche il vestito di questo galantuomo era cosparso di lanugine e le scarpe le calze e tutto il resto dai tacchi ai bottoni della giacca inclusi erano profusamente ricamati di chiazze di fango disseccate da 15 giorni innanzi che il tempo si mettesse al bello la prima naturale impressione di caterina fu che quei due simpatici tipi fossero entrati con lo scopo di impossessarsi illegittimamente di qualche oggetto tascabile che potesse attrarre la loro fantasia ella non tentò di simulare i suoi timori e si slanciò verso la porta aspettate un minuto disse l'uomo dalla giacca verde chiudendo pianamente la porta e mettendosi con le spalle di contro questo non va dov'è il vostro principale il mio che cosa domandò caterina tremante con l'idea che principale in gergo potesse significare orologio o denaro il signor mantalini disse l'uomo che ne di lui c'è in casa e di sopra credo rispose caterina rassicurata da questa domanda avete bisogno di vederlo no rispose il visitatore esattamente non ho bisogno di vederlo se si tratta di farmi un favore voi potete dargli questa e dirgli che se ha bisogno di parlarmi e risparmiarsi delle seccature io sono qui ecco tutto con queste parole egli mise nella mano di caterina un grosso foglio quadrato e volgendosi all'amico osservò con aria disinvolta che le stanze erano di una bella altezza al che l'amico assenti aggiungendo a modo illustrazione che vera molto spazio per un bambino da diventare uomo in una di quelle stanze senza timore di portare mai la testa in contatto col soffitto dopo aver sonato il campanello che chiamava madama mantalini caterina diede un'occhiata alla carta e vide che sfoggiava il nome di scali insieme con qualche altra informazione che non ebbe tempo di considerare quando la sua attenzione fu attratta dallo stesso signor scali che dirigendosi a uno degli specchi in bilico gli diede un gran colpo nel centro col bastone con la stessa freddezza che se fosse stato di ferro fuso bella lastra questa tix disse il signor scali all'amico ah rispose il signor tix mettendo i segni di quattro dita e una doppia impressione del pollice su un pezzo di seta azzurra e questa pezza qui credete che sia stata fatta per nulla dalla seta il signor tix passò a un elegante capo di vestiario mentre il signor scali s'accomodava a suo bellagio la cravatta innanzi allo specchio e quindi aiutato dall'immagine procedeva all'ispezione minuta ad una pustoletta che aveva sul mento ed era ancora assorto in questa occupazione quando entrò madama mantalini che cacciò un'esclamazione di sorpresa la quale lo riscosse ah e questa la padrona chiese scali è madama mantalini disse caterina allora disse il signor scali cavando un piccolo documento di tasca e spiegandolo con gran lentezza questo è un ordine di sequestro e se non trovate conveniente rilasciarci il saldo faremo subito se non vi dispiace il giro della casa e redigeremo l'inventario la povera madama mantalini si torse le mani per l'ambascia e suonò il campanello per chiamare il marito dopodiché cadde in una poltrona e in uno svenimento contemporaneamente ma questo evento non scompose affatto coi bravi signori perché il signor scali poggiandosi a un cavalletto sul quale era messo in mostra un bel vestito di modo che le sue spalle lo sormontavano quasi nello stesso modo che avrebbero fatto le spalle della signora alla quale era destinato se lo avesse indossato si spostò il cappello da un lato e si grattò la testa con la massima indifferenza mentre l'amico tix cogliendo quell'occasione per fare un esame complessivo dell'appartamento preliminare del lavoro che doveva compiere se n'era rimasto col registro dell'inventario sotto la scella e il cappello in mano occupato mentalmente a mettere un prezzo su ogni oggetto nel suo raggio visuale era questo lo stato delle cose quando irruppe quel bel campione del signor mantalini il quale avendo avuto al tempo del suo celibato delle relazioni piuttosto estese coi confratelli del signor scali ed essendo tutt'altro che colto di sorpresa nella turbolenta occasione di quella mattina fece semplicemente una scrollatina di spalle si ficcò le mani fino in fondo alle tasche dei calzoni inarcò le sopracciglia fischiò un paio di note cacciò un paio di imprecazioni e sedendosi a cavalcioni d'una sedia affrontò la faccenda con gran compostezza e decoro qual è la dannata somma totale fu la prima domanda che fece mille e cinquecento ventisette sterline quattro scellini e nove pence e mezzo rispose il signor scali senza muovere un muscolo vada all'inferno il mezzo pence disse il signor mantalini con impazienza che vada pure se lo desiderate ribatte il signor scali e ci vadano anche i nove pence per quanto io mi sappia osservò il signor tix ci vadano anche le mille e cinquecento ventisette sterline non ci importa affatto neanche un bottone disse scali bene riprese dopo un momento di silenzio che sa da fare nulla si tratta solo d'un piccolo crack o di un completo patatrack si tratta di un fallimento in piena regola benissimo allora il mio caro signor tommaso tix dovete informare quell'angelo di vostra moglie e tutta la vostra simpatica famiglia che per tre notti non andrete a dormire a casa già che ci sarà molto da fare qui che serve alla signora a starsi a lamentare continuò il signor scali accennando a madama mantalini che si inghiozzava una buona parte di ciò che c'è qui non è stata pagata credo e questo le dovrebbe essere di gran consolazione con queste osservazioni miste di una gran piacevolezza e di un sano incoraggiamento morale nelle contingenze difficili il signor scali procedete alla redazione dell'inventario compito delicato in cui fu materialmente assistito dal finissimo tatto e dalla pratica del signor tix rigattiere incantevole coppa della mia felicità disse mantalini avvicinandosi alla moglie con aria contrita vuoi ascoltarmi per due soli minuti non parlarmi rispose la moglie singhiozzando tu mi hai rovinata e basta il signor mantalini che senza dubbio aveva studiato bene la sua parte udite appena pronunciare queste parole severe e dolorose si ritrasse di parecchi passi assunse un'espressione di profonda tortura psichica e si precipitò a testa innanzi fuori della stanza facendo poco dopo sbattere di sopra con gran violenza la porta ad uno spogliatoio signorina nickelby gridò a quel rumore madama mantalini presto per amor del cielo s'ammazza gli ho risposto inquieta e lui se ne ha avuto a male alfredo diletto alfredo con queste esclamazioni e la corse di sopra seguita da caterina la quale benché non avesse le medesime appreensioni dell'amatissima moglie era tuttavia un po agitata spalancata in fretta la porta si presentò alla vista il signor mantalini che col colletto della camicia regolarmente piegato sulla nuca affilava un coltello da tavola al cuoio del rasoio a esclamò il signor mantalini interrotto e paf il coltello da tavola sparì nella tasca della veste da camera del signor mantalini mentre gli occhi del signor mantalini roteavano furiosamente e la chioma scompigliata gli si confondeva con le fedine alfredo esclamò la moglie gettandogli le braccia al collo non volevo farti dispiacere non volevo farti dispiacere rovinata esclamò il signor mantalini io ho rovinata la migliore più pura creatura che abbia mai benedetta l'esistenza ad un miserabile vagabondo per l'inferno lasciatemi fare a questo punto della sua frenesia il signor mantalini tuffò la mano in tasca per impugnare il coltello ma impedito dalla stretta della moglie tentò di scagliarsi con la testa contro il muro badando bene di rimanere almeno a due metri di distanza calmati angelo mio disse madama la colpa non è di nessuno la colpa è di tutti e due ma sapremo riparare vieni alfredo vieni il signor mantalini non pensò opportuno di andare così tutto a un tratto ma dopo aver invocato parecchie volte il veleno e dopo aver pregato qualche donna o uomo di fargli saltare le cervella diventò più mansueto e si mise a piangere pateticamente in quella mite disposizione di spirito non si oppose al sequestro del coltello del quale in verità egli fu piuttosto lieto di sbarazzarsi come d'un inopportuno e pericoloso oggetto per la tasca di una veste da camera e finalmente si lasciò condur via dall'affettuosa compagna nel termine di due o tre ore le signorine furono informate che fino a nuovo ordine si sarebbe fatto a meno dell'opera loro e alla fine di due giorni il nome di mantalini apparve nella lista dei fallimenti la signorina nickelby la stessa mattina riceve una lettera per posta che l'avvertiva che la ditta sarebbe stata condotta dalla signorina nag e che lei si doveva ritenere licenziata notizia questa che appena fu nota la signora nickelby le fece dichiarare che da tempo ella se l'aspettava e citare in prova diverse fantastiche occasioni nelle quali ella aveva appunto vaticinato la stessa cosa e io ti ripeto notò la signora nickelby che è appena necessario dirlo non aveva mai detto una cosa simile e io ti ripeto caterina che un laboratorio di sarta modista è l'ultima cosa nella quale avresti dovuto pensare d'entrare io non te ne faccio un rimprovero amor mio ma pure ti dico che se ti fossi consigliata con tua madre bene bene mamma disse dolcemente caterina ora tu che mi raccomanderesti che ti raccomanderei esclamò la signora nickelby non comprendi cara mia che fra tutte le occupazioni di questo mondo per una signorina della tua condizione quella di damigella di compagnia di qualche brava signora è la sola adatta alla tua educazione ai tuoi modi al tuo aspetto e a tutto il resto non sentisti mai il tuo povero padre parlare di quella signorina figlia di quella vecchia che stava a pensione nella stessa casa dove una volta stette lui a pensione quando era scapolo come si chiamava so che cominciava con una b e finiva con una g ma se fosse waters o no non si chiamava così ma il nome non importa non sai che quella signorina andò come dama di compagnia di una signora che morì subito dopo e che lei si sposò il marito ed ebbe il più bel bambino che il medico avesse mai veduto tutto in soli 18 mesi caterina sapeva perfettamente bene che questo torrente di opportuni ricordi era originato da qualche prospettiva reale o immaginaria scoperta dalla madre nella carriera delle dame di compagnia e la perciò aspettò paziente che fossero passate in rassegna tutte le memorie e gli aneddoti che si avventurò a domandarle quale scoperta avesse fatta e la verità venne fuori quella mattina la signora nickelby aveva avuto dalla trattoria che le mandava la birra un foglio del giorno innanzi e in esso vera l'annuncio redatto nell'inglese più puro e più grammaticale d'una signora maritata che aveva bisogno di una brava e giovane persona quale sua compagna il nome e l'indirizzo della signora maritata si sarebbero appresi rivolgendosi a una certa libreria dell'estremità occidentale della città indicata nel giornale e io dico esclamò la signora nickelby deponendo in trionfo il giornale che se a tuo zio non dispiace mette conto di provare caterina era troppo angosciata dopo l'aspro inizio dei suoi contatti col mondo e in realtà si curava troppo poco in quel momento di ciò che il destino le riservava per muovere difficoltà di sorta il signor rodolfo nickelby non ne mosse neppur lui ma invece lo dò molto l'idea e quanto all'improvviso fallimento di madama mantalini non mostrò una gran sorpresa e in verità la sua sorpresa sarebbe stata strana già che il fallimento era stato voluto e sollecitato principalmente da lui così il nome e l'indirizzo della signora maritata furono ottenuti senza indugio e la signorina nickelby e la madre uscirono in cerca della signora wititterly abitante in cadogan place slown street quella stessa mattina cadogan place è un sottile legame che unisce due grandi estremi è l'anello di congiunzione fra gli aristocratici marciapiedi di belgrave square e la barbarie di chelsea si trova in slown street ma non ne fa parte gli abitanti di cadogan place guardano con aria di superiorità slown street e giudicano umiliante brampton scimmiottano le maniere dei circoli più eleganti e fan le viste di ignorare dove sia new road non che essi pretendano di avere gli stessi titoli dei grandi signori di belgrave square di grovesnor place ma il fatto sta che riguardo a loro si considerano quasi nella condizione di quei figli illegittimi dei potenti che sono lieti di millantare la loro alta prosapia benché la loro alta prosapia non si sogni di riconoscerli affettando come meglio le riesce le arie e le sembianze del più alto grado sociale la gente di cadogan place si trova nella classe media cadogan place è la conduttura che comunica agli abitanti delle regioni oltre i suoi confini la vampata d'orgoglio della nascita e del grado che non ha in sé e deriva da una scaturigine lontana o come la membrana che lega i fratelli siamesi contiene qualcosa della vita e dell'essenza di due corpi distinti pur non appartenendo né all'uno né all'altro su questo territorio dubbio abitava la signora wittiterly e alla porta della signora wittiterly caterina nickelby picchiò con mano tremante la porta fu aperta da un valletto gigantesco con la testa infarinata o ingessata o dipinte in qualche modo quella che aveva non sembrava vera cipria e il valletto gigantesco pigliando il biglietto da visita che gli veniva presentato lo consegnò a un paggio minuscolo così minuscolo in realtà che il suo corpo non arrivava a tenere nello schieramento solito il numero di bottoncini indispensabili a un costume d'appaggio e che quindi si era stati costretti a cucirli in file di quattro il piccino portò il biglietto di sopra su un vassoio e quando fu di ritorno caterina e la madre furono introdotte in una stanza da pranzo piuttosto sudicia estinta e arredata in modo che a tutto poteva servire meno che a mangiare e a bere ora nel corso ordinario delle cose e secondo tutte le descrizioni autentiche dei costumi dell'alta società che si leggono nei libri la signora wittiterly si sarebbe dovuta trovare nel suo boudoir ma sia che nel boudoir in quel momento si stesse facendo la barba il signor wittiterly o sia altro il fatto sta che la signora wittiterly riceveva nella sala dove tutto era ben adatto e indicato compreso le cortine e le fodere dei mobili color rosato a dare una sfumatura delicata al colorito della signora wittiterly e dove c'era un cagnolino per avventarsi alle gambe degli estranei e divertire la signora wittiterly e il sullodato minuscolo paggio per versare la cioccolata ristoratrice alla signora wittiterly la signora aveva un'aria di dolce insipidità e un viso di attraente pallore vera un aspetto distinto in lei e nei mobili e dappertutto e la stava reclinata su un divano in atteggiamento così naturale che si sarebbe potuta scambiare per un'attrice sul punto di cominciare la prima scena ad un ballo e di non attendere che il cenno del sipario portate le sedie il paggio le portò uscite alfonso il paggio uscì ma se un alfonso portò mai stampato sul viso e nell'aspetto chiarissimo il nome di battista o di giuseppe era proprio quell'alfonso mi sono rischiata a venire signora disse caterina dopo alcuni minuti di silenzio impacciato dopo aver letto il vostro annuncio sì rispose la signora wittiterly uno della mia gente l'ha fatto mettere sul giornale sì pensavo forse disse modestamente caterina che in caso non aveste già scelto potreste scusare questo disturbo sì disse con aria stanca la signora wittiterly se poi avete scelto o povera me no interruppe la donna non sono di così facile contentatura io realmente non so che dire siete mai stata da migella di compagnia la signora nickelby che aveva aspettato ansiosamente il momento di poter parlare si interpose abilmente prima che caterina potesse rispondere non presso estranei signora disse la brava donna ma ha fatto compagnia a me per parecchi anni io sono sua madre signora disse la signora wittiterly comprendo vi assicuro signora disse la signora nickelby che io ero lontana dall'immaginare una volta che sarebbe stato necessario per mia figlia andar fuori di casa il suo povero padre campava di rendita e ne camperebbe ancora se avesse ascoltato in tempo le mie vive preghiere e se cara mamma disse caterina sottovoce mia cara caterina se mi lasci parlare disse la signora nickelby mi prenderò la libertà di spiegare a questa signora credo che non sia necessario mamma e nonostante tutti gli aggrottamenti di sopracciglia e le strizzatine d'occhio con cui la signora nickelby si sforzava di far capire che stava per dire qualcosa che avrebbe subito assicurato il posto caterina mantenne il suo punto con uno sguardo espressivo e per una volta la signora nickelby fu arrestata sull'estremo orlo d'una orazione che cosa sapete fare chiese la signora wittiterly con gli occhi chiusi caterina arrossì nell'atto di menzionare le sue principali doti mentre la signora nickelby le elencava una a una sulle dita avendone già calcolato il numero prima di uscire fortunatamente i due calcoli si accordarono e la signora nickelby non ebbe alcuna ragione di parlare siete di buona indole chiese la signora wittiterly aprendo gli occhi per un istante e richiudendoli lo spero aggiunse caterina e avete delle ottime referenze no caterina rispose di sì e mise sul tavolo il biglietto di suo zio abbiate la bontà di avvicinarvi un po più con la sedia in modo che io possa guardarvi bene io sono molto miope e non riesco a distinguere i vostri lineamenti caterina obbedì all'invito benché con qualche impaccio e la signora wittiterly si mise per due o tre minuti languidamente a osservarle il viso il vostro aspetto mi piace disse la donna suonando un campanellino alfonso di al tuo padrone di venire qui il paggio a quest'ordine sparì e dopo un breve intervallo durante il quale non fu detta una parola fra le due parti aprì la porta innanzi a un solenne signore di una quarantina d'anni d'aspetto piuttosto volgare e dai capelli radi che si chinò per un po sulla signora wittiterly e si mise a conversare con lei sottovoce oh egli disse voltandosi sì è una cosa importantissima la signora wittiterly è di carattere molto eccitabile molto delicato e sensibile una pianta di serra una pianta esotica oh caro enrico lo interruppe la signora wittiterly tu sei l'amor mio lo sai disse il signor wittiterly soffiando su una piuma immaginaria e sei bella andata la donna trasse un sospiro la tua anima è troppo grande per il tuo corpo disse il signor wittiterly la tua intelligenza ti logora tutti i medici lo dicono tu sai che non c'è un medico che non sia orgoglioso di accorrere per te qual è la loro unanime dichiarazione mio caro dottore disse al baronetto tamli snaffim in questa stessa sala l'ultima volta che venne mio caro dottore qual è la malattia di mia moglie ditemi tutto avrò la forza di sopportarlo si tratta di nervi mio caro amico egli mi disse siate orgoglioso di quella donna apprezzatela molto essa forma il decoro vostro e di tutta la buona società la sua malattia è l'anima che si gonfia si espande si dilata accendendo il sangue accelerando il polso aumentando l'eccitazione acci a questo punto il signor wittiterly che nell'ardore della sua rappresentazione aveva agitato la destra fino a poco meno di un pollice dal cappellino della signora nickelby la ritrasse in fretta e si soffiò il naso con tanta forza che parve si aiutasse con qualche energico meccanismo tu enrico mi dipingi peggio di quel che sono disse la signora wittiterly con un debole sorriso no giulia no disse il signor wittiterly la società in cui ti muovi in cui ti devi necessariamente muovere per il tuo grado le tue relazioni i tuoi meriti è un vortice e un turbine della più terribile eccitazione che il cielo mi benedica posso mai dimenticare la sera che ballasti col nipote del baronetto al ballo elettorale a exeter veda inorridire dopo questi trionfi io soffro sempre disse la signora wittiterly e per questa stessa ragione soggiunse il marito tu devi avere una compagna che abbia una gran gentilezza una gran dolcezza una squisita simpatia e una calma perfetta a questo punto tanto il signore che la signora wittiterly i quali avevano parlato piuttosto alle nickelby che fra loro si interruppero e guardarono le due uditrici con un'espressione che sembrava dicesse che ve ne pare la signora wittiterly disse il marito volgendosi alla signora nickelby è ricercata e corteggiata dalle più sontuose assemblee dai circoli più sfolgoranti essa è eccitata dall'opera dal dramma dalle belle arti dalla 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 nobiltà amor mio suggerì la signora wittiterly dalla nobiltà si intende disse il signor wittiterly e dall'esercito lei forma ed esprime un'immensa varietà di opinioni su un'immensa varietà di soggetti se i personaggi pubblici sapessero la vera opinione che di loro si è fatta la signora wittiterly forse non avrebbero più l'artire d'andare a testa così alta zitto enrico disse la donna non è troppo bello dire una cosa simile io non faccio nomi giulia rispose il signor wittiterly e non nuocio a nessuno ricordo soltanto il fatto per mostrare che tu non sei una persona comune che un urto avviene continuamente fra il tuo spirito e il tuo corpo e che devi essere addolcita e vezzeggiata ora vorrei sentire spassionatamente e tranquillamente quali sono i requisiti di questa signorina per soddisfare a questa domanda i requisiti furono un'altra volta elencati con l'aggiunta di molte interruzioni e domande in contraddittorio da parte del signor wittiterly fu infine deciso che si sarebbero assunte delle informazioni e una risposta decisiva sarebbe stata mandata entro due giorni alla signorina nickelby in una lettera allo zio stabilite queste condizioni il paggio condusse le visitatrici fino alla finestra delle scale dove furono prese in consegna dal valletto gigantesco e rimorchiate sane e salve fino al portone evidentemente delle persone molto per bene disse la signora nickelby mettendosi a braccetto della figliuola che persona superiore è la signora wittiterly lo credi mamma se limitò a rispondere caterina come non crederlo figlia mia soggiunse la madre è pallida però e sembra tanto stanca mi auguro che non abbia a morir presto ma ne ho una gran paura queste considerazioni condussero la lungimirante madre a un calcolo sulla possibile durata della vita della signora wittiterly e sulle probabilità che il vedovo inconsolabile domandasse la mano di sua figlia prima di giungere a casa essa aveva liberato l'animo della signora wittiterly da ogni impaccio corporeo lasciando soltanto indecisa una piccola questione se ciò è uno splendido letto di mogano destinato a se stessa si dovesse mettere nelle quattro camere posteriori della casa di cadogan place o nelle sei della facciata ma non riuscendo a valutare precisamente i vantaggi dei due appartamenti finì col risolvere la questione pensando di lasciarne la decisione finale al genero le informazioni furono prese la risposta non con gran soddisfazione di caterina giunse favorevole e al termine di una settimana essa si presentò con tutti i suoi oggetti mobili e di valore nella magione della signora wittiterly dove per ora la lasceremo grazie 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 grazie